Oggi come ospite, ho un ospite d'eccezione in quanto uno scrittore, uno scrittore qui con me, Fabio Zaganelli. Buongiorno. Buongiorno, Sabrina. Buongiorno carissimo, ben ritrovato, ho piacere di conoscerti, di averti qui. Parliamo appunto di questo bellissimo libro, un libro positivo, in quanto il titolo è positivo e quindi penso sia positivo. La fortuna viene a chi sorride, eh amici? Non dimenticatelo mai perché è proprio così. Poi entreremo un po' nei dettagli, Conta, perché a me piace entrare un po' nei dettagli delle persone, far conoscere ai nostri amici appunto che personaggio tu sia e come sia anche di persona. D'accordo, Fabio? Ok. Volevo anche sapere appunto a che età hai cominciato a girare per il mondo. Ho cominciato a 19 anni. Presto. A 19 anni, che avendo ancora un'attività di famiglia annuale, praticamente avevo un minimarket e uno stabilimento banale con la mia famiglia. Di conseguenza finché avevo il minimarket stavo via un mese l'anno, in chitarra in mano e in giro per l'Europa. Che meraviglia. Il tuo primo viaggio? Eh, Spagna. Spagna, bella la Spagna. Un bel po'. Sono anche molto solari, o sbaglio? Cioè, a me dà quell'idea, insomma, la Spagna di vederli molto calorosi, molto solari come persone. Sì, sì, tutto vero, tutto vero. Comunque, quando cominci a girare e a vedere le varie realtà, ti rendi conto che comunque tutto il mondo è paese. È vero. Non è un luogo comune, ma è una pura verità. Per cui, cioè, basta viverle un po' le situazioni. Finché sei come turista, allora dici, qui è peggio, qui è meglio, questo è fatto in un modo, questo è fatto in un altro. Quando cominci a entrare... Quando entri proprio nella realtà della cosa, allora ti rendi conto che bene o male, insomma, come si suol dire, tutto il mondo è paese. Nel senso che siamo molto simili tutti a questo punto, è vero? Sì, su questo non ci due. Continuiamo un pochino, Fabio, con questo libro. Tra l'altro c'è una foto, io adesso la telecamera è un po' lontana, magari non si vede, però c'è una foto di un bimbo bellissimo. Da dove l'hai presa questa foto? Ero nel nord-ovest...